Pana Record presenta Video Matto Video Matto Le più esilaranti avventure della Pantera Rosa Le indimenticabili storie di Tom e Jerry Le incredibili vicende di Banni il Coniglio Di Duffy che sono io Di Pallino, di Brazzo di Ferro e di tanti altri eroi Nella più matta collana o video del mondo Ogni cassetta a sole dista al 9.900 lire Video Matto I grandi del cartoon in videocassetta È una proposta Pana Record Grazie a tutti 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 A tutti A tutti gli sceriffi A tutti gli sceriffi Confermo presenza di terrore Stop Anno 1872 Città di Manzo Bollito, Texas Da due anni questa cittadina di frontiera vive terrorizzata da un noto desperado Conosciuto come il terrore Quello sono io Il grande José Crevo, Santa Barbara, la cucaraccia Smith Mando chiunque al creatore con la modica spesa di 7 dollari e mezzo Per le suocere due dollari e mezzo Ecco la califo forno finalmente Oh no, accidenti, ancora tu? Perchè chi ti aspettava? Amphrey Bogart forse? Perchè chi ti aspettava? Perchè chi ti aspettava? Perchè chi ti aspettava? Grazie a tutti. Grazie a tutti.